Siamo a Topolò, Topoluove, nel dialetto sloveno originario. Ci troviamo in comune di Grimacco, nelle valli del Natisone. È un paese molto particolare, Topolò, con una storia segnata fortemente, soprattutto nel Novecento, ma anche nei secoli passati, ma nel Novecento in particolare, dal confine. Un confine che si trova proprio a poche centinaia di metri da dove vi sto parlando. Dietro di me potete vedere il Monte Kolovrat, il Monte Cook, e siamo già in Slovenia. Davanti è nuovamente Slovenia, la zona di Cambresco. Oltre a questi monti, alla mia destra, c'è il Monte Matajur. Topolò ha una storia, dicevo, molto particolare, che subisce una piccola svolta, diciamo, nel 1994, quando inizia un'avventura culturale che si chiama Stazione di Topolopo-Stai a Topolove. Questa avventura culturale ha portato il paese ad essere conosciuto anche al di fuori dei confini nazionali e soprattutto ha portato alcuni benefici, quali possono essere, ad esempio, la ristrutturazione di diverse case con i bandi europei, o ultimamente anche l'arrivo di giovani che sono cresciuti anche nell'ambito della stazione e che operano qui in paese con una loro associazione che è a nome Rubida e che apriranno tra pochi giorni un locale, un bar, luogo per co-working, per incontri, a oltre 40 anni dalla chiusura dell'ultimo posto pubblico. Un'altra iniziativa come associazione Topologo sulla quale stiamo operando è la pulizia dei sentieri. Sono praticamente cinque sentieri ad anello che circondano il paese, che arrivano fino al confine con la Slovenia, volendo si va anche nei paesi di Livek e di Raunelivek che sono già Slovenia, ma molto interessanti sono dal punto di vista naturalistico le passeggiate verso la zona sottostante Topolò dove scorre appunto il fiume Coderiana ed altri torrenti che generano sovente delle cascate, due delle quali particolarmente interessanti per la loro ampiezza. Una cascata la chiamiamo la cascata del mulino perché fino al 1956 era in opera un mulino, oggi chiaramente ci sono solo le rovine della casa e l'altra cascata è denominata appunto al vecchio mulino perché pare lì ci fosse una struttura di questo tipo.